Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensione Aggiornamenti, una bellissima notizia, a novembre arriva un bonus da 150€ per tutti, vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente è tutto gratuito. Si tratta nello specifico di un bonus, una tantum dal valore di 150€ elargito a chi ne ha diritto, direttamente in busta paga. Lo scopo è quello di venire incontro alle famiglie meno abbienti e aiutarle a far fronte ai rincari di luce e gas di questi ultimi mesi. Il bonus dovrebbe interessare circa 22 milioni di persone. Il bonus appena licenziato dal governo al momento è destinato a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e di quello privato, con un reddito non superiore ai 20.000€ lordi annui. Analogamente il bonus andrà anche ai pensionati e ai lavoratori autonomi, sempre con lo stesso tetto di reddito di 20.000€ lordi annui. Si restringe quindi la base dei beneficiari rispetto al precedente bonus 200€ che invece era destinato ai redditi fino a 35.000€ e nel tempo era stato esteso anche ai disoccupati, colfe, badanti ed altre categorie di lavoratori come ad esempio quelli stagionali. Bene, e anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti!